E' stato pubblicato dal Comune di Milazzo l'avviso distrettuale relativo alla misura denominata assegno civico. Saranno finalizzati ad altri 19 residenti nei comuni del distretto sociosanitario di 27 da individuare prioritariamente tra coloro che non dispongono di alcuna forma di reddito e che non siano già destinatari del reddito di cittadinanza, da impiegare per la durata di quattro mesi in attività di pulizia delle vie cittadine, custodia, pulizia e salvaguardia delle strutture comunali, nonché di supporto e vigilanza presso le scuole gli asili nido comunali. Sarà corrisposto un contributo di 480 euro mensili per la durata di quattro mesi con un impegno lavorativo di 80 ore mensili. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 3 dicembre 2021. In avanti al Comune di Patti è stato erogato un contributo statale per la solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano il stato di bisogno. Si tratta di aiuti per buoni alimentari e anche per il pagamento dei canoni di locazione delle utenze come rifiuti, acqua, energie e telefono. Priorità alle persone che versano in condizioni di necessità, che non godono di prestazioni assistenziali ed altre forme di sostegno. Altri contributi per un budget totale di 31.000 euro potranno essere assegnati a fronte delle spese sostenute tra giugno e dicembre 2021 per la fruizione di attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con fruizione educativa e ricreativa destinati a minori fino a 17 anni.